Riparto per il monologo, oggi non voglio parlare ancora della partita perché c'è anche domani perciò domani ci sarà un monologo solo per la partita Roma-Lassio per il derby oggi voglio parlare di situazioni un pochino societarie che lasciano un pochino pensare perché ragazzi qui al comando lo sapete tutti quanti oltre i fricking c'è Stallina oltre Lina ci sono un altro paio di donne, una non mi va di dirvi il nome però è una ragazza che è di Roma che ha preso molto potere però qui manca gente di calcio a Tricoria, manca questo DS oggi il Corriottosport fa il nome di Accardi così, ancora un po' buttato lì che il nome di Accardi sarebbe entrato negli ultimi tempi Accardi è direttore sportivo dell'Empoli io dico che questa è una situazione che va veramente risolta al più presto perché ripeto finché ci stavano dei risultati a favore della Roma nessuno ci ha pensato però ragazzi adesso secondo me comincia a uscire il fatto che la Roma è senza DS al quattro apele con 10 giocatori che stanno a scadenza di contratto fra prestiti e proprio scadenza di contratto è una situazione un po' così dove Lina ha tagliato tante teste tante sono in scadenza al 30 giugno 2024 però poi bisogna anche rimpiazzare queste teste qui sembra un po' tutto campatonaria sembra come la società sia in vendita ma poi ti dicono che non è in vendita io dico che questa società ha fatto le cose con il cuore con la passione, con l'amore ma poco con la testa io spero veramente che dal 30 giugno poi si incomincia a fare le cose con la testa anche perché io ho sempre detto ragazzi all'inizio non è che l'hanno fatto apposta, hanno sbagliato hanno sbagliato a prendere Pinto perché è inutile che uno mi vuole convincere il contrario per me Pinto hanno sbagliato hanno sbagliato a prendere Murigno per fare il progetto sostenibile quello è un altro errore e hanno sbagliato altre cose hanno cambiato teste di qua e di là io credo che dopo 4 anni però una fase di start up ci sia stata e bisogna secondo me dal 30 giugno un poi agire con la competenza perché gli altri non ti aspettano io vedo altre società dove spendono molto di meno ma c'è molta più competenza qua si buttano soldi su soldi e cazzate su cazzate una se ci pensate bene poi uno da tifoso non ci pensa ma Lukaku preso un prestito e operazione da 17 milioni di euro per un anno per una società con le falle che ha la Roma è una operazione folle perciò io d'ora in avanti monitorerò per quello che mi compete mi riguarda nella mia piccola comunicazione e non farò più sconti neanche i svilkin cioè se io non vedo le cose fatte bene a livello di calcio io dirò siete incompetenti venetete andare perché siete in grado di tenere la Roma con la competenza perché la competenza vale più dei soldi non c'è niente da fare se voi mettete soldi e competenza vince sempre la competenza poi appari competenza competenza soldi competenza allora vince soldi competenza ma se no è sempre competenza e qui ci vuole gente di calcio io non so Lina quanto possa essere competente ma Lina fai una struttura di calcio nella Roma ma di calcio quella vera non sappiamo ancora con l'allenatore anche l'allenatore è scadenza poi ragazzi a me mi hanno detto che comunque l'idea dei freckin è farlo rimanere o o o quarto posto o no però ad oggi anche l'allenatore è in scadenza e qui stiamo tutti andando in ritardo con il progetto il Napoli pare che ha chiuso il DS il Napoli dovrebbe aver chiuso anche l'allenatore che molto probabilmente sarà italiano l'Inter sta già avanti la Juventus sgoggiuntoli già stanno passavanti la Lazio ha già messo il tassello tutor che sarà allenatore il prossimo anno cioè noi siamo in questo momento un po' fermi in balia degli eventi poi magari la società sa tutto per loro veramente non ci so problemi perché già sanno quello che devono fare questo non lo so ma sembra veramente che siamo in alto mare e questo è inaccettabile oggi poi in questione stadio sullo stadio da Roma oggi esce Cotrani che dice che potrebbe esserci l'intervento di Caltagirone per fare lo stadio io dico magari perché ragazzi se interviene Caltagirone credo veramente che lo stadio poi si va di Adama in 4 e 4 8 però vediamo non è una mia notizia ma anche qua il progetto doveva essere presentato a marzo avete visto sto progetto io no pure sullo stadio sembra proprio tutto frizzato ecco perché uno se non lo diceva Lina non me lo dicevano in privato uno pensava veramente caro ma è una società che sta in vendita e che sta per essere venduta ragazzi questa è la verità perché sembra proprio che siamo allo sbando e poi i presidenti non parlano ancora non c'è un presidente che ti dice state tranquilli state sereni il progetto sarà questo 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 e quest'altro non c'è nessuno che dice nulla e perciò siamo un po' così stiamo in attesa 4 aprile non si batte ciglio per quanto riguarda rds e questo secondo me incomincia ad essere un fatto grave noi che ci abbiamo stiamo in ritardo da qualche anno perché siamo la squadra che con il terzo montengaggio non riesce a qualificarsi in Champions League per cinque anni di seguito e adesso vediamo il sesto vediamo il sesto e le cose da fare ce ne avremmo tante la Roma ce ne ha tante cose da fare perciò non può partire in ritardo rispetto alle proprie competitor io spero che sappiano veramente cosa fare però vedo di la verità sono preoccupato adesso sarò sul pezzo e qualsiasi scelta qualsiasi cosa poi vedremo perché non si può più sbagliare ragazzi non si può più sbagliare non so più accettate le scuse nel senso comunque i sordi ci hanno messi a me i sordi ci hanno messi siamo arrivati al quarto anno che è finito il progetto portoghese Murigno Pinto ora inizia un altro progetto questo deve essere il progetto della competenza se no Presidenti Frecchin potete anche mettere in vendita la Roma perché ripeto a Roma è una cosa seria e per tenerla a certi livelli oltre i soldi ci vuole la competenza monologo terminato